carissimi amici carissimi fratelli carissime sorelle pace del signore buon 8 gennaio a tutti quanti voi sono le 7 del mattino iniziamo questo giorno leggendo nella parola del signore in particolare nell'epistola agli ebrei al capitolo 13 il verso 6 è scritto così noi possiamo dire con piena fiducia il signore mi aiuto non temerò che cosa potrà farmi l'uomo lo scrittore dell'epistola sta dando degli ultimi suggerimenti ai destinatari della lettera parla dell'amore fraterno parla dell'ospitalità dell'importanza di visitare i carcerati del matrimonio parla del ricordarsi dei conduttori ma si soffermi in un modo particolare sulla fiducia che bisogna avere nel signore ed è qualcosa che ancora oggi deve caratterizzare la nostra vita avere fiducia in dio sapendo che il signore se noi abbiamo affidato la nostra vita a lui è il nostro aiuto e noi non dobbiamo temere di nulla primo passo è affidare la vita a dio e questo è qualcosa che è propedeutico a tutto quanto il resto e questo affidare la vita a dio significa accettare lui nel nostro cuore come personale salvatore e accettare la sua volontà come guida per la nostra vita essendo non semplici uditori ma persone che mettono in pratica la parola di dio quando questo avviene allora siamo certi che il signore è il nostro aiuto e quando abbiamo questa certezza nelle nostre vite il timore scompare perché sappiamo che in ogni situazione dio sarà con noi e se dio è per noi chi potrà essere contro di noi il salmo 23 verso 1 è qualcosa che dovrebbe essere oggetto delle nostre riflessioni ogni giorno davide dice il signore mio pastore nulla mi manca e anche se dovessi camminare nella valle dell'ombra della morte io non temerei alcun male perché tu sei con me allora fratelli e sorelle amici cari abbiamo fatto del signore del creatore del cielo e della terra il nostro dio abbiamo affidato la nostra vita nelle sue mani camminiamo con fiducia non lasciamoci prendere o vincere dallo sconforto dalla paura o della depressione dio conosce ogni buon desiderio che c'è nella nostra vita e dio è quello che guiderà le cose affinché ciò che è buono per noi possa arrivare a compimento e dio guiderà le cose affinché ciò che non è buono per noi non trovi compimento e questa la fiducia che noi abbiamo noi non siamo dei figli viziati che vogliono a tutti i costi quello che desiderano noi rimettiamo la nostra vita nelle mani del signore come gesù disse anche noi affermiamo padre non la mia ma la tua volontà sia fatta e questo rendimento deriva dalla consapevolezza che le vie di dio la volontà di dio è la cosa migliore per la nostra vita forse stai vivendo un momento di paura di timore di terrore magari stai vivendo un momento in cui tutto è scudo davanti a te riconsacra la tua vita al signore rimetti la tua sorte nelle mani dell'eterno ed egli opererà perché egli ancora è lì dio che guida la vita di quelli che lo cercano forse stai vivendo in un momento in cui non riesci a capire quello che può essere il tuo futuro e magari dubiti addirittura dell'amore di dio e delle cure di dio sappi che dietro le circostanze della tua vita se tu stai affidando la tua esistenza al signore c'è dio ed egli sta guidando ogni cosa per il tuo bene oggi forse non puoi capire quello che sta succedendo ma domani lo comprenderai e darai gloria a dio e allora nell'attesa continua a non aver timore ma a confidare nell'aiuto potente del signore d'altronde il signore non ha promesso che ci presenterà tutto il tragitto che dovremo percorrere in modo tale che noi camminiamo o serenamente lungo una strada spianata il signore ci chiede di avere fiducia in lui e la fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono e allora non temiamo ma abbiamo fede abbiamo fede nel signore non dubitiamo mai del suo amore perché il suo amore è qualcosa che non ci lascerà e non permettiamo mai ai dubbi di prendere il sopravvento perché la fede è quella che deve vincere ogni dubbio della nostra vita sì era questa la certezza del salmista e questo è dell'autore scusate dell'epistola agli ebrei ed è questo quello che noi vogliamo fare nella nostra vita cioè avere la certezza che se il signore è il nostro aiuto non c'è nulla da temere e gli uomini che stanno organizzando il male che stanno cercando in qualche modo di metterci il bastone tra le ruote non vi preoccupate se il signore non lo permetterà non potranno fare nulla e se lo dovesse permettere quello che faranno tornerà per il nostro bene ve la ricordate la storia di giuseppe giuseppe è un giovane che si trova ad essere odiato dai propri fratelli e si ritroverà a causa di questo ad essere servitore in casa di potifar un un plenipotenziario egiziano e quando si troverà in quella casa a causa della sua fedeltà si troverà a finire in prigione perché per non venire meno al comandamento di dio e anche per non tradire la fiducia del suo datore di lavoro rifiuterà di avere relazioni carnali con la moglie di questi che cercava in tutti i modi di adescarlo e quando sarà in prigione nonostante l'interpretazione favorevole del sogno fatta al coppiere egli continuerà a rimanere lì perché il coppiere venendo meno a una promessa che aveva fatto non parlerà di lui al farone povero uomo sembrerebbe essere dimenticato da tutti perfino da dio invece no perché verrà il momento in cui dio guiderà le cose affinché quel coppiere che si era dimenticato lui se ne possa ricordare guiderà le cose affinché non sia più capo o di della servitù in casa di potifar ma diventi il vice re di egitto l'uomo più potente della terra diremmo oggi verrà il momento in cui quei fratelli che lo avevano maltrattato torneranno lì a chiedere a lui l'aiuto per poter sostentare la propria vita sì ha ragione l'autore dell'epistola agli ebrei se il signore è il nostro aiuto non dobbiamo temere perché l'uomo non ci potrà fare nulla coraggio il momento è difficile lo so ma se dio è con te tu otterrai la vittoria solo continua ad avere fiducia in lui anche in questo giorno spera nel signore confida nel signore si umile nella sua presenza presto il signore opererà che la grazia la pace l'amore e la benedizione di dio sia con tutti quanti noi pace del signore non ci potrà fare nulla coraggio